L'industria creditizia italiana è solida e lo confermano i dati del 2015 nel quale l'aumento annuo dei depositi è stato dallo 0,5% con 45 milioni di italiani correntisti, dei quali 30 milioni che utilizzano in maniera continuativa i servizi delle banche. A dirlo il vicepresidente nazionale dell'ABI, l'associazione bancaria italiana Beppe Ghisolfi, intervenuto ad un convegno inaugurale della settimana dell'economia dell'Istituto Genovesi da Vinci di Salerno. Parole precise quelle del banchiere piemontese che più volte nei giorni scorsi ha ribadito la solidità del sistema, ricordando come i risparmiatori italiani preferiscano le banche al classico materasso. L'industria bancaria italiana è solida, non ha avuto un euro dallo Stato perché i tre Montibond o poi Montibond sono stati dei prestiti restituiti, faccio il confronto con la Germania dove le banche hanno avuto circa 300 miliardi di euro. Il nostro è un'industria bancaria molto solida e gli italiani non è vero che mettono i soldi sotto il materasso perché i dati di dicembre dicono che i depositi in banca sono cresciuti dello 0,5. Qualcuno aveva diffuso i dati di novembre, dimenticando però che a novembre c'è sempre un calo da quando mondo è mondo tutti gli anni perché a novembre gli italiani pagano le tasse e ritirano i soldi dalle banche. Si è fatto una grande polemica, si è parlato di questo provvedimento del governo, questi famosi 3 miliardi e 4 per risanare il sistema, per salvare il sistema, però lei ha precisato che questi soldi non sono venuti dal governo. Allora, i soldi per rimettere in piedi le quattro banche mettendo la termine energia nuovo di fronte al nome della banca, questi soldi sono stati messi dalle banche, il governo ha fatto il provvedimento, un provvedimento giusto che io condivido, ma i soldi li hanno messi le banche, anche i 100 milioni che verranno utilizzati per i risparmiatori che dicono di essere stati mal consigliati, anche quelli sono soldi delle banche, cioè tutte le banche insieme salvano le quattro banche in difficoltà e provvedono per i risparmiatori che dicono di essere stati in qualche modo mal consigliati. Il governo non ha messo soldi e ha fatto il provvedimento. Finanze problematiche bancarie ormai di strettissime attualità, del resto, alla luce del salvataggio delle banche varato dal governo, seppur con soldi degli istituti di credito. A confermarlo anche il successo del manuale di educazione finanziaria, scritto da Ghisolfi e dai primi posti nelle vendite su IBS ed Amazon. Oggi c'è tanto bisogno di educazione finanziaria, come c'è bisogno di inglese, come c'è bisogno di informatica, io metto al terzo posto l'educazione finanziaria, l'80% dei quotidiani parlano di economia, bisogna conoscere il significato di questi termini altrimenti siamo fuori dal mondo. Una recente inchiesta di un quotidiano nazionale ha rivelato che l'80% degli italiani segue un servizio in tv di economia, non capisce nulla. Dobbiamo uscire da questa situazione.